Buongiorno, sono Ivana Giancamilli, vivo nella provincia d'Ancona, precisamente a Corinaldo e lavoro in un'azienda di famiglia dall'età di 14 anni. La vita in campagna per me è libertà, una giornata del sole, leggerezza, spensieratezza, nonostante il lavoro ti senti appagato. Una vita trascorsa alla guida del suo trattore, un'attività che Ivana svolge fin da giovanissima e che si intensifica dopo la morte del padre. Ivana è una donna piena di energia, ma con il passare del tempo comincia ad avvertire dolori sempre più insistenti. I problemi con la schiena sono iniziati più o meno intorno ai 35-40 anni. Prima era una cosa saltuaria, poi invece, tre anni fa, la situazione è precipitata e siamo dovuti arrivare a fare l'intervento per forza di cose. I dolori di Ivana erano provocati da ernie discali. L'Inail le riconosce la malattia professionale e l'equip multidisciplinare della sede di Ancona realizza per lei un progetto di reinserimento lavorativo individualizzato. Le viene fornito un nuovo mezzo con tutte le caratteristiche necessarie ad attenuare le vibrazioni meccaniche, così Ivana può tornare al suo lavoro. Il vecchio mezzo era rigido, questo è un trattore super molleggiato. Grazie a questo trattore oggi sono di nuovo alla guida e ai lavori nei campi e quello che si prova è soddisfazione, gioia e senso di appagamento.